Con il caldo torrido e le ondate di calore che stanno interessando l'Abruzzo, si aggrava la situazione degli anziani e aumenta il rischio di disidratazione. La prossima settimana sono previste temperature anche oltre i 40 gradi centigradi e le giornate torride e le notti affose possono ripercuotersi in maniera negativa sulla salute degli over 65. Nel periodo estivo infatti aumentano i ricoveri in ospedale e riguardano persone affette da malattie molto gravi che assumono particolari tipologie di farmaci o che soffrono di patologie croniche. Il professore Francesco Cipollone, direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e direttore del Dipartimento Medico e della Clinica Medica dell'Ospedale di Chieti, spiega che il 15% dei pazienti anziani ricoverati in questo periodo al Santissima Annunziata ha avuto problemi di disidratazione. La disidratazione è un pericolo latente, subdolo, ma molto critico nel periodo estivo. È un problema perché gli anziani fisiologicamente hanno una diminuzione della percezione della sede, quindi può disidratarsi senza percepire questa condizione. La disidratazione rappresenta poi un fattore di rischio di precipitazione di tante comorbilità, pensiamo a insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, insufficienza renale. Sono tutte situazioni che ormai nel nostro anziano con un'età media oltre gli 80 anni sono presenti e che possono essere precipitate dalla disidratazione, spesso portando all'ospedalizzazione. Nelle fasi acute dell'estate anche un 15-20% dei pazienti ricoverati si è ricoverato per un peggioramento della malattia di fondo, che può essere uno scompenso cardiaco, ad esempio un diabete precipitato proprio dalla disidratazione. Ci sono anche casi gravi e gravissimi perché in situazioni estreme, soprattutto se non si interviene precocemente, si alterano poi gli equilibri di alcuni elementi importanti come il sodio che è necessario per la funzione cerebrale, quindi si può andare verso poi uno stato di perdita diciamo della lucidità, di sonnolenza, quindi soprattutto soggetti magari che vivono da soli e hanno delle visite poco frequenti da parte dei propri cari possono penetrare in uno stato diciamo di neurologico, di deficit neurologico anche potenzialmente rischioso per la vita. Come prevenire la disidratazione? Bisogna bere molto, se non ci sono particolari controindicazioni, anche fino a 3 litri di acqua, a volte oltre che all'acqua in quanto tale sono utili, bevande anche diciamo le classiche bibite che contengono miscele bilanciate di zuccheri e di sali oltre appunto alla componente dell'acqua. Poi devono avere delle accortezze, evitare l'esposizione diciamo al sole diretto nelle fasce più centrali della giornata, quindi diciamo evitando dalle 12 alle 16 l'esposizione e coprirsi il scapo e ad esempio soprattutto se sono soggetti che assumono terapie antipertensive e se sono stati a lungo seduti evitare di alzarsi repentinamente in piedi perché potrebbero avere anche momenti di ipotensioni e di sincopi.